Oltre al gambetto morra, nella siciliana il bianco ha a disposizione anche un'altra variante aggressiva di gambetto e che è il cosiddetto gambetto siciliano che inizia con B4. Questo è un chiaro ed evidente sacrificio di pedone e teniamo in presente una cosa, si chiama gambetto siciliano solo in italiano perché la denominazione inglese non è Sicilian Gambit ma è Wing Gambit, cioè Gambetto dell'ala. Si può capire facilmente perché. Qual è lo scopo di questo gambetto? Lo scopo è molto semplice, non c'è motivo di non prendere, il nero prende il pedone che è gratis. E il bianco può giocare D4. Ecco realizzato lo scopo di questo gambetto. Il bianco intende conquistare il centro di pedoni non appoggiandolo con il cavallo in F3, non appoggiandolo con il C3 come nella lapi, ma sacrificando un pedone, cioè in modo assolutamente rivoluzionario. Questo pedone non potrà mai essere ripreso. Il bianco non potrà riprendersi quel pedone in nessun modo perché il nero è in grado di difenderlo con E6, con cavallo C6, con A5, molto facilmente e in vari modi. Quindi è un vero gambetto. Il bianco non riprende il pedone che ha sacrificato. E allora cosa attiene in cambio? Facciamo vedere una cosa. Questo gambetto a colori invertiti ricorda molto da vicino, per certi versi perlomeno, siamo in una penoni, il gambetto benco. Come possiamo notare la mossa a colori rovesciati è la stessa. Tra l'altro il bianco qui non è obbligato a prendere, ma diciamo che prende. Qui lo scopo del benco è, come possiamo notare, completamente diverso, perché il nero non può conquistare il centro. Non è questo lo scopo. Lo scopo, facciamo le mosse, una delle varianti, è completamente diverso. E cioè è quello di aprire queste due colonne per le torri e fare pressione su questi due pedoni del bianco. Appoggiando il tutto con l'altiere in G7 e sfruttando proprio il fatto che il centro non è occupato da pedoni, ma è libero per l'altiere. Torniamo indietro. C'è qualche analogia. In più il bianco controlla il centro. L'analogia sta nel fatto che, prima o poi, una delle possibilità sarà quella per il bianco di giocare a tre. E dopo la presa, riprendendo di alfiere, anzi, giochiamole queste mosse, giusto per far vedere, giochiamo di sei, tanto per fare una mossa. Come possiamo notare, la situazione sul lato di donna è praticamente la stessa. Non solo, ma al centro è nettamente migliore per il bianco. Quindi questo gabbetto ha una sua valenza strategica ben precisa. Si sacrifica un pedone con un doppio scopo. Controllare il centro e aprire le linee sul lato di donna. In realtà si è scoperto che questo gabbetto non è del tutto corretto. Ma ci sono delle studi che sono stati fatti da giocatori d'attacco, da giocatori a cui piace questo tipo di posizioni, che hanno trovato delle idee molto interessanti. Noi ci limitiamo a qualche cosa, non spendiamo più di tanto tempo per questo gabbetto. Sta di fatto che una delle mosse più giocate, considerata anche migliore, è d5. Con lo scopo di rompere subito il centro avversario. Qui il bianco alla scelta può giocare e5, indubbiamente, mantenendo un certo vantaggio al centro, ma lasciando al nero questa possibilità qui. Oppure può anche giocare un'altra cosa, cioè prendere in d5. E dopo donna per d5, è vero che il centro del bianco per metà è praticamente sparito. Però è anche vero che questo si è trasformato in un vantaggio di sviluppo, anche se sembra che il vantaggio di sviluppo sia il nero che ha sviluppato l'unico pezzo della scacchiera. In realtà dopo cavallo f3, che è la mossa più precisa, prima o poi il bianco giocherà o a3 o c4, scacciando la donna, in caso di b per c3, cavallo per c3. E questa è una variante che può essere molto pericolosa, perché il bianco si sviluppa molto rapidamente e il nero qui è completamente indietro e dovrà non solo muovere il cavallo, ma anche muovere il pedone per far spazio all'altiere. Quindi queste sono un po' le idee che sono dietro al gambetto siciliano. Chiamiamolo gambetto siciliano, l'italiano è così. Ma la traduzione corretta sarebbe gambetto dell'ala. Quindi, per esempio, vediamo anche l'altra variante, quella con e5, cavallo c6, la mossa più spontanea, e qui appunto una possibilità è a3. E rientrando in uno schema tipico del gambetto benco. Cosa dire in generale di questo gambetto? È giocato pochissimo, perché non gode di buona reputazione ad alti livelli. Ma a livelli medi è un'arma molto importante a disposizione del bianco. Il nero non può sottovalutare questo gambetto, perché altrimenti può trovarsi rapidamente in difficoltà, con un pedone in più, ma in difficoltà. Io stesso ho giocato questa variante con il nero, cioè ho subito il gambetto siciliano in più occasioni. E devo dire che ho fatto molta fatica. Quindi, se siete dei giocatori, e qui bisogna essere proprio dei giocatori d'attacco, che vogliono giocare qualche cosa di poco usuale, possono giocare il gambetto siciliano. In più, consideriamo una cosa, torniamo indietro, esiste una variante del gambetto, nel senso una variazione del gambetto, e cioè cavallo f3, e nel caso di cavallo c6, nel caso di d6 non è possibile giocarla, ma nel caso di cavallo c6, d4 adesso. Questo è simile al precedente, ma con una differenza. Sono già stati sviluppati i cavalli. A chi è vantaggioso questo cambio? Apparentemente al nero, che può addirittura scegliere come prendere il b4, ma se prende il b4 di pedone, il bianco gioca d4, e il cavallo in una casa già compromessa. Perché per esempio, non è facile giocare d5 in questa posizione, come nell'altra variante, perché dopo d5, presa, presa, c4, b per c3, cavallo per c3, per esempio, la donna deve spostarsi, l'unica casa buona è la casa a5, e qui si può addirittura giocare d5, sacrificando momentaneamente il cavallo, insomma, qui il vantaggio di spazio, e di sviluppo da parte del bianco, è molto evidente. Questo è solo un esempio. Allora qualcuno può pensare, che si possa prendere di cavallo, dopo tutto il tempo perso, è poco significativo. E invece, dopo c3, cavallo c6, e d4, siamo alle solite. E la situazione è più o meno la stessa, perché adesso in caso di presa, si minaccia d5, e il cavallo non ha la sua naturale casa in e5, e quindi dopo la presa, e per esempio d5, si crea praticamente la stessa situazione. Oppure dopo e6, il bianco può giocare d5, e disturbare in modo molto efficace, lo sviluppo del nero. In realtà in questa posizione, è stato trovato attraverso i computer, che donna f6, è una mossa vincente. Che in pratica, il sacrificio di qualità, che viene fatto in a1, non è una torre, ma qualità, perché si può prendere in c6, non è sufficiente. Ma ci sono voluti i computer. E infatti, in questa posizione, il bianco può giocare qualcosa di diverso. La cosa più ovvia, che viene alla mente, è giocare cavallo c3. Allora però il nero può giocare d5. E qui lo sviluppo della partita, può essere questo qui. E5, rendendo difficile lo sviluppo del cavallo g8, fra l'altro faccio notare, questa è molto simile a una francese, in cui però mancano già i pedoni sulla colonna c. Il nero è un pedone in più, ma qui c'è una colonna aperta. E soprattutto il nero fa fatica a svilupparsi. Qui si vede a occhio, il bianco muove gli archieri subito, arrocca quando vuole, il nero fa fatica. Qui per esempio, io ho giocato una partita tanti a me fa, che è andata avanti, ho giocato f5, nel tentativo di bloccare poi il gioco, e il mio avversario ha giocato g4. Prendendo la partita, ha un caos indescrivibile. Per concludere, torniamo indietro, chi vuole giocare il gabetto siciliano ha due scelte, o la gioca subito, ed è sicuro di giocarla, oppure gioca cavallo f3, e se è sicuro che il suo avversario giocherà cavallo c6, magari perché lo conosce, lo ha studiato, ne ha visto le partite su qualche database, allora lo può giocare ritardato, e qui l'effetto sorpresa è ancora maggiore. Bene, se siete dei giocatori d'attacco, e non volete giocare il morra, ma volete giocare un gambetto, allora io vi garantisco, che il gambetto siciliano, può essere un'arma molto importante. Quindi, con il nero, rovesciando i colori, con il nero, mi raccomando, dateci almeno un'occhiata. Grazie.